Se vuoi convincere le persone all'utilizzo dell'auto elettrica può essere un compito impegnativo, ma ci sono diversi modi per farlo. Ecco alcuni punti chiave per promuovere l'uso dell'auto elettrica. 1. Benefici ambientali. Si tratta fondamentalmente dell'assenza di emissioni inquinanti dirette e la riduzione complessiva delle emissioni di gas serra. L'uso dell'auto elettrica contribuisce a migliorare la qualità dell'aria e ad affrontare il cambiamento climatico. 2. Risparmio sui costi a lungo termine. Illustra come, nonostante il costo iniziale più elevato di acquisto di un'auto elettrica rispetto a un'auto a combustione interna, i proprietari di auto elettriche possono risparmiare notevolmente sui costi di carburante e manutenzione nel corso del tempo. Inoltre potresti menzionare incentivi fiscali e sussidi offerti da molti governi per l'acquisto di auto elettriche. 3. Prestazioni e guidabilità. Descrivi le prestazioni silenziose, la potenza immediata e la guida fluida delle auto elettriche. Spiega come la tecnologia delle auto elettriche offra un'esperienza di guida piacevole e reattiva. 4. Infrastrutture di ricarica in crescita. Sottolinea come le infrastrutture di ricarica stiano crescendo rapidamente, rendendo sempre più convenienti e accessibile ricaricare un'auto elettrica. Menziona l'aumento delle stazioni di ricarica rapida lungo le autostrade, nei centri urbani e nei parcheggi pubblici. 5. Innovazione e tecnologia. Metti in evidenza l'innovazione tecnologica e l'evoluzione delle batterie, che stanno portando a un'autonomia sempre maggiore e a tempi di ricarica più brevi per le auto elettriche. Descrivi come l'industria automobilistica sta investendo massicciamente nello sviluppo di nuovi modelli di auto elettriche con funzionalità avanzate. 6. Esperienze personali. Invita le persone che sono interessate all'auto elettrica a provare un test drive per sperimentare di persona le sue caratteristiche e i vantaggi. Le esperienze dirette possono spesso essere più convincenti delle semplici informazioni. 7. Ricorda che l'educazione e la consapevolezza sono fondamentali per convincere le persone all'utilizzo dell'auto elettrica. Fornire informazioni accurate e trasparenti aiuterà a dissipare i dubbi e a promuovere una visione positiva dell'auto elettrica. 8. Ricorda che l'educazione e la consapevolezza sono fondamentali per